Con fatturazione elettronica di Aruba puoi inserire uno sconto in fattura, ad esempio per il bonus 110%, secondo le specifiche indicate da Agenzia delle Entrate. Per procedere, scegli il pulsante Crea fattura in alto a sinistra. Il sistema apre la modalità di creazione fattura, smart o guidata, scelta da Impostazioni, Generali, Creazione fattura. Di default è impostata come predefinita la Creazione fattura smart. A questo punto seleziona un cliente e inserisci almeno un prodotto o servizio. Inserisci l'importo dello sconto applicato sul totale documento. Per farlo, seleziona la voce Sconto maggiorazione ed abilita la sezione. Seleziona il pulsante Aggiungi sconto maggiorazione. Nella schermata visualizzata indica che si tratta di uno sconto, quindi da Tipo scegli se vuoi inserire un importo o una percentuale di sconto e il valore numerico delle stesse. Clicca su Salva. A questo punto dovrai riportare nella riga del prodotto o servizio interessato dallo sconto la descrizione Sconto per articolo 121 del DL numero 34 del 2020. Per farlo, clicca sulla rotella in corrispondenza del servizio prodotto e scegli Aggiungi dati. Quindi, alla sezione Altri dati, clicca su Aggiungi riga. Su Tipo dato, inserisci Super bonus. Su Riferimento testo, inserisci la dicitura indicata Sconto per articolo 121 del DL numero 34 del 2020. A questo punto completa la creazione della fattura seguendo i video dedicati alla creazione Fattura Smart. Ricorda che se carichi la fattura su pannello dovrai compilare manualmente i campi sopraindicati nell'XML della fattura.